Infopoint lavora sempre, diverse persone si rivolgono regolarmente a noi. Un centinaio anche quest'anno le richieste d'aiuto agli Infopoint sull'amianto dell'associazione Eara. Le domande riguardano per lo più questioni di carattere previdenziale e sanitario sulle malattie correlate all'esposizione. Un flusso costante di persone, sia allo sportello storico all'ospedale maggiore con ingresso da Via della Pietà, sia in quelli più recenti in Via Mazzini a Muggia e dal luglio di quest'anno anche a Servola al Circolo Canciani. L'associazione continua la sua opera di prevenzione e informazione e avverte c'è una nuova categoria di lavoratori a rischio. Una nuova categoria di esposti che sono i cosiddetti bonificatori, cioè coloro che lavorano per le ditte di bonifica. Le ditte bonifiche sono ischiette in un albo, sono certificate e compiono interventi di rimozione degli amianti. Però i loro lavoratori sono una nuova categoria di esposti. Lavorano certamente in sicurezza, però bisogna stare attenti anche a... Questo è un problema su cui bisogna riflettere attentamente. Per chi invece è già stato esposto all'amianto nel corso della sua vita lavorativa, è importante il riconoscimento della malattia per poter contare sulla rivalutazione della pensione. Quando il pensionato già titolare di pensione diretta viene riconosciuto a una malattia professionale a svesto correlata, può aver diritto anche a benefici previdenziali con importanti rivalutazioni sulla propria pensione. Ecco, in questo caso deve rivolgersi ovviamente all'INAIL, dove su richiesta viene rilasciata una certificazione del periodo di esposizione che può essere fatto valere ai fini pensionistici. Di prevenzione, sicurezza sul lavoro, bonifiche e salute si parlerà nel settimo seminario sull'amianto in programma domani a cura delle ara all'Istituto Nautico con inizio alle 10. 21, ripilchiamo a Bui ed Istria lo spettacolo della nostra amica collaboratrice Sabrina Morena, a Mianto senza confini. Ed è previsto anche nel futuro, nel prossimo futuro, l'apertura di un Infopoint a Gorizia. Grazie a tutti.